Musica Bella a tutti ragazzi Qui è R01 E siamo in un nuovo video Di FIFA 14 Ultimate Team Andiamo a vedere Quale squadra incontrerò Quale Giocatore Batterò Tante ristancore Abbiamo intrapato Fatto qualche piccolo Cambiamento come potete vedere E c'è Douglas Costa E Felipe Melo Perché Vargas mi aveva stufato un po' L'ho velluto E ho finito di farmi L'italiana che ha fatto lo squad build Potete andarlo a vedere Comunque E' un po' E' un po' Una squadra Pippa Più o meno Forse no Andiamo a vedere Insomma Quale Player A cui skillare Squadra anonima Lagga E' l'idea allo stadio olimpico Però lagga I am a legend Brasiliana Credibile Diego Alves Alexandro Naldo Felipe Santana Danilo Hernanes Diego Felipe Melo Osvaldo Pato Lucas Moira La mia è più forte Mondestamente I terzini miei Sono più forti Perché lui ancora ha Alexandro Io O Marcello E' finito lui Voglio vedere chi è tra le riserve Miranda Maxio Michael Ronaldinho Paolinho Emerson Ronaldinho Ah Fernandinho Io lo fermerò con un Marquinhos Marquinhos Mamma mia Mamma mia Vado per partire Dove la scuola Mamma mia Mamma mia Mamma mia Che gol Dove eri fottuto Goku Mamma mia Vado 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 Alexandro Vado E Oddio Se segnava sicuro altrimenti prendeva Vado 3 a 2 3 a 2 3 a 2 Incredibile Bella partita Complimenti Ha giocato veramente bene anche se ha fatto tiri centrali Che Proprio veramente tantissimi ha fatto Ha fatto 16 tiri ma 13 centrali Io ho fatti 16 14 cioè Una partita bella e combattuta veramente Bella partita Siamo salvi 3 partite rimaste in una partenza di merda Ma stiamo recuperando piano piano Va finì Va finì Va finì Che ci qualifichiamo nella divisione 3 Ma questo c'è proprio un traguardo epico Che non accadrà proprio mai nella vita Nella nostra vita Nella mia vita Quindi Portiamo a casa 501 crediti E quel credito mi porterà avanti Sicuramente Abbiamo ristabilito un po' lo storico Siamo 57 vittorie 58 sconfitte Quindi Sto ristabilendo Lo storico Della stagione Diciamo Di FIFA 14 Ultimamente Il video di oggi ragazzi Finisce qui Spero vi sia piaciuto Spero Vi piaccia come gioca FIFA E niente Che dirvi Se vi è piaciuto il video Mettete un bel mi piace Supportatevi Insomma Iscrivetevi al canale E Mettete mi piace Alla pagina Facebook E Spero il video vi sia piaciuto E Ci vediamo Al prossimo video Bella